Dalle registrazioni delle telecamere potrebbero emergere elementi utili alle indagini. A dirlo è il direttore generale della ASL, Toscana Sud-Est Antonio Durzo, alla procura sull'incendio nella palazzina Calcit di fronte all'ospedale San Donato. Le fiamme, nella notte di giovedì 16, nel pieno dell'epidemia, costrinsero i vigili del fuoco ad un super lavoro. Adesso è stato presentato l'esposto, come scrive la Nazione, nel quale la ASL mette a disposizione dei TM le conclusioni della commissione, guidata dal direttore del Dipartimento Tecnico del Sistema Sanitario. Questo documento, specifica l'azienda, si aggiunge alle registrazioni delle telecamere che sorvegliano l'area e che erano già state consegnate alla squadra mobile. Nelle immagini si vede passare vicino la palazzina una figura. L'ipotesi è che si tratti di un tossico dipendente. Per ora non ci sono prove concrete che qualcuno abbia piccato l'incendio. La prima ipotesi, fatta dai tecnici, era quella di un'origine non volontaria dell'arrogo. Questo nel sospetto che le fiamme, pur essendosi sviluppate nella parte bassa, in realtà fossero partite dall'alto, dalle tubature che attraversano i vari piani. Fiamme che si erano sprigionate attorno alle 21.30 per concentrarsi nella seconda sala di emodinamica, nel cuore di una palazzina di proprietà dell'ASL, che per gli spostamenti legati all'emergenza sul coronavirus, ospita anche ambulatori di oncologia, senologia ed ematologia.